buongiorno è mattino molto presto sono le nove e mezza e sto andando in stazione il treno regionale 12 0 2 7 di Trinitaria delle ore 9 e 34 come vedete sono un treno perché sto andando appunto da rinzano e hanno aperto un park ma non da tantissimo tipo da un anno anche meno forse comunque sto andando a questo park che io non ci sono mai stato e volevo vedere un po com'era lì c'è la mia bella via mex speriamo di tornare a casa vivi buona giornata secondo google maps dovrebbe essere qua si sarà la sicuramente qua dovrebbe esserci lo skateboard e qua c'è il park ma che merda cioè boh raga avevo tante aspettative per sto park non vedevo l'ora di arrivare qua e tipo me ne andrò tra mezz'ora perché non c'è veramente niente da fare ho girato tipo 5 minuti ammetto che è uno dei park più piccoli e brutti che abbia mai girato c'è sto rail che è abbastanza carino però ci sono poi alcune strutture che non sai bene cosa siano tipo sto a fare penso serva per gli skateboard perché per la bmx non mi sembra molto utile questo coso cosa serve che è largo tanto così poi queste due invece questo è figo perché vabbè io sono a destra avanti grindo di qua però è la stessa cosa anche di là comunque molto figo perché puoi grindarlo da sto lato a salire e salti sopra e questa scende questo devo dire è molto molto divertente per imparare anche i grani poi ci sono queste due strutture che non ho ben capito tipo sta roba non so bene cosa servono sti affari qua ragazzi è veramente non dico strutturato male ma non va assolutamente bene per le bmx però il cemento devo dire è molto bello è fatto mi sembra bene non si scivola comunque c'è di peggio ma c'è anche di meglio dai c'è anche di meglio ok Grazie a tutti! Grazie a tutti.